e per raccontare le dinamiche delle vendite nel mondo del mass market retail abbiamo invitato ed introduco il primo ospite molto gradito che è Marco Limonta, dottor Marco Limonta, Business Insight Director di AIRAI. Marco, benvenuto, ciao, a te la parte. Grazie, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. L'obiettivo da parte nostra è quella oggi di condividere con voi alcune informazioni sul mercato in generale del largo consumo confezionato e all'interno di questo contesto capire insieme a voi come si inseriscono le carni e qual è stata appunto la performance in questo periodo. Quindi il primo punto è quello di condividere con voi ciò che è successo in questo periodo. Se analizziamo i dati della grande distribuzione e quando consideriamo grande distribuzione consideriamo i permercati, supermercati, piccoli negozi a self service, gli specialisti della cura casa, della cura persona, i discounter e considerando i prodotti di largo consumo, sia quelli confezionati a peso fisso e quelli invece sfusi, tutti insieme questi prodotti generano circa un fatturato di circa 90 miliardi di euro. Le performance di questi prodotti sono state in questi ultimi mesi, questo è un dato aggiornato a metà settembre, performance molto molto interessanti, tra le principali e tra le più importante crescite che abbiamo visto in questi ultimi anni. Quindi a fronte di un 2019 che si è chiuso con una crescita del fatturato di due punti e mezzo i primi nove mesi dell'anno fanno registrare una crescita più che doppia, un 5,7%. Tra le altre cose il dato dell'ultimo mese, quelli di ottobre, delle prime settimane di novembre ci dicono che questa crescita è continuata, continua a un ritmo ancora più sostenuto. Ma questo dato del 5,7% è figlio di una parte iniziale dell'anno che noi abbiamo chiamato pre-Covid, quindi quel periodo che arriva fino all'ultima settimana di febbraio, con una crescita di 4 punti e mezzo. Dopodiché nel periodo che abbiamo chiamato Covid, quindi la fase centrale del lockdown di marzo-aprile, quella che si è conclusa alla prima settimana di maggio, la crescita invece è stata molto molto più importante, una crescita di 10 punti e virgola 3, con una crescita altissima, per esempio nel mese di marzo, con più di 16 punti di crescita complessiva dell'intero sistema. Ma anche nella parte successiva, quindi quella che noi chiamiamo fase 2 o fase 2-3, mettetela come meglio credete, questa crescita è comunque stata una crescita interessante, una crescita del più 3,4%. Ribadisco, mese di ottobre fa registrare un tasso di crescita ancora più importante. Abbiamo detto che questi sono prodotti di largo consumo, sia confezionato che non confezionato. Se consideriamo i prodotti invece confezionati, che chiamiamo appeso imposto, quindi confezionati calibrati, questo tasso di crescita è ancora più elevato, vedete quel 5,7% che abbiamo visto prima di crescita del fatturato nei primi nove mesi dell'anno, se consideriamo i soli prodotti di largo consumo confezionato, è una crescita di 7,3 punti. Va da sé che quindi c'è un elemento in cui la crescita è stata ridotta, anzi da un certo punto di vista è stata una crescita flat. Qual è quest'area, qual è questo reparto del punto vendita? È la parte dei banchi, dei banchi fresco, che andiamo a analizzare meglio. Se consideriamo quindi i prodotti a peso imposto, quindi prima di parlare dei prodotti appunto a peso variabile dei banchi, i prodotti confezionati fanno registrare, abbiamo visto complessivamente, una crescita molto molto importante, soprattutto nel periodo del lockdown, ma alcuni di questi reparti hanno avuto crescite molto molto più importanti, segnatamente i prodotti sugelati, i prodotti freschi e le carni calibrate. Quindi non stiamo parlando di tutto il comparto delle carni vendute nel punto vendita, di quelle solo confezionate calibrate, quelle a peso imposto, ma queste carni hanno fatto registrare il tasso di crescita più importante che abbiamo registrato all'interno del largo consumo confezionato. Va da sé che parlare di prodotti freschi e di carne in particolare ha relativamente senso se consideriamo i soli prodotti a peso imposto, dobbiamo considerare anche la grande parte dei prodotti che sono i prodotti a peso variabile. I banchi complessivamente fanno registrare nei primi mesi dell'anno un tasso non di crescita invece, ma tendenzialmente un tasso flat. Un tasso flat che è stato positivo nei primi due mesi e poi dal periodo del lockdown in avanti invece fanno registrare una negatività, una negatività che ha elementi maggiormente accentuati nel momento in cui si sta parlando, si è parlato di fase 2 e fase 3. Ma questo è un dato medio, spiega relativamente poco di ciò che è successo ai singoli reparti all'interno del mondo dei banchi, perché ci sono stati dei reparti delle macro-categorie che hanno sofferto tantissimo segnatamente il mondo della panetteria e il mondo della gastronomia, mercato della gastronomia che è stato tra i reparti trendsetter negli anni passati e che invece ha subito un fortissimo rallentamento in questo periodo anche dopo il periodo del lockdown. Mentre ci sono mercati che invece erano in sofferenza e continuano ad essere in sofferenza, vedasi i salumi, mercati invece che erano in crescita, sono stati in crescita e continuano a crescere, i formaggi e alla fine le carni. Formaggi e carni sono stati i due reparti che all'interno di un contesto come abbiamo detto dei banchi complessivamente flette sono stati i reparti che hanno trainato la crescita. Quindi se consideriamo carni a peso variabile e carne a peso imposto, come vedremo poi meglio, le carni hanno rappresentato uno dei reparti più importanti e di più grande crescita in quest'ultimo periodo. Se noi facessimo un esercizio e considerassimo non solo la crescita dei volumi complessivamente venduti nella grande distribuzione, ma facessimo un calcolo di quanti chili, di quante tonnellate di carboidrati, di proteine, i singoli shopper hanno acquistato in più e quindi trasformassimo gli acquisti alimentari in acquisti di carboidrati, di proteine e di grassi, come vedete, e quindi il titolo è ben rappresentato da questi numeri, le proteine, assieme ai carboidrati, hanno fatto registrare tassi di crescita molto importanti. Soprattutto il mondo delle proteine, quindi le proteine sia all'interno dei tipici alimenti da secondo, ma anche all'interno dei prodotti utilizzati per i primi piatti, complessivamente il tasso di crescita dei volumi in termini di proteine è stata una crescita molto importante nel periodo, diciamo, del lockdown marzo-aprile, ma anche successivamente i tassi di crescita sono importanti, anzi sono il doppio della crescita che abbiamo registrato se consideriamo gli alimenti in termini di carboidrati e di proteine. Focalizziamoci ora sulle carni, o meglio, innanzitutto sulle carni bianche, quel di pollo tacchino. Abbiamo visto che c'è stata appunto una forte crescita, la crescita che abbiamo registrato è stata una crescita importante sia per quanto riguarda le carni naturali, sia per quanto riguarda le carni preparate. Anche questo è interessante verificare questa crescita, perché soprattutto le parti, e il segmento delle carni naturali era il segmento che meno cresceva negli anni passati, mentre le carni preparate e lavorate erano effettivamente un segmento fortemente dinamico. Il fatto nuovo di quest'ultimo periodo di questi mesi è che c'è stata una crescita sia ancora delle carni lavorate ma anche delle carni naturali. Come potete vedere, le carni preparate hanno ormai raggiunto la quasi totalità del loro peso come carni elaborate calibrate. E questo ha conferma del fatto che all'interno del mercato delle carni, le carni bianche sono stato il mercato più dinamico e più innovativo che prima di tutti gli altri ha utilizzato le tecniche di calibratura per proporre prodotti a un peso fisso e a un prezzo tendenzialmente fisso. Abbiamo parlato di carni bianche, parliamo di carni rosse e carni rosa, parliamo di carni di maiale e carni invece di bovino. Anche queste carni sono cresciute molto bene, sono cresciute molto bene nella parte naturale e sono cresciute molto bene anche nella parte dei prodotti elaborati. In questo caso, come vedete, c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la calibratura dei prodotti, anche le carni elaborate che più delle altre hanno una parte importante di prodotti che sono a peso fisso e calibrati e stanno crescendo molto molto bene, però come vedete dal tasso di crescita è un tasso di crescita importante, ma all'interno di una quota di mercato che è ancora relativamente ridotta rispetto a quello che abbiamo visto delle carni bianche. Questa è la fotografia del mercato forse vale la pena concentrarci su gli andamenti di carni bianche e di carni rosse e di carne rosa sia all'interno del dato medio che abbiamo visto prima sia scomponendo questa crescita nella fase iniziale, nella fase del lockdown e nella fase successiva. Come vedete, se consideriamo le carni bianche ma poi consideriamo anche le carni rosse e rosa, la crescita c'è stata in entrambe le componenti, sia la parte naturale che la parte elaborata, sia nella parte del lockdown, ma successivamente anche quando il lockdown è terminato e quindi quando il consumatore è stato più libero anche di recarsi nei punti vendita di fiducia e diciamo è stato libero maggiormente di fare acquisti, comunque ha continuato a privilegiare sia le carni naturali sia le carni lavorate e questo è un ulteriore elemento che ci spiega come mai alla fine le carni rappresentano non solo uno dei mercati più importanti del largo consumo in generale, ma uno dei mercati più performanti. Grazie Marco. E questo è terminato il mio intervento. Grazie a tutti.